Ciao a tutti, oggi parliamo della mutazione del gene MDR1, video molto importante soprattutto per i proprietari di Border Collie e di pastori australiani, che sono fondamentalmente le razze che hanno più frequentemente questa mutazione di questo gene. Cercherò di spiegarvi in maniera abbastanza semplice cos'è il gene MDR1 e cos'è la mutazione di questo gene. Allora il gene MDR1 è quello che è reputato alla formazione della piglicoproteina che legandosi ai farmaci ha una funzione diciamo di liberare le cellule da questi farmaci. e quindi fondamentalmente soprattutto a livello di sistema nervoso. Fondamentalmente quindi per capirci quando noi prendiamo un farmaco, prendiamo un esempio un sedativo, questa piglicoproteina si lega a questo farmaco e quindi lo elimina dalla cellula. Quindi il farmaco farà il suo dovere, dopodiché questa piglicoproteina la legherà e lo eliminerà dalla cellula. La mutazione del gene MDR1 fondamentalmente fa sì che questa piglicoproteina non si produca e quindi il farmaco viene eliminato molto 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 più lentamente e quindi la tossicità di questo farmaco è maggiore. Ovviamente ci sono una serie di farmaci che vanno dai sedativi agli antibiotici ai chemioterapici che nei cani che presentano questa mutazione possono essere estremamente pericolosi. Anche diversi farmaci per esempio per la profilassi per la filariosi cardiopolmonare nei cani. Quindi è molto importante verificare che il nostro cane non sia né portatore né abbia tutti e due i geni con il gene mutato. Ovviamente ora cercherò di spiegarvi un attimo la genetica. Sapete che i geni vanno sempre in coppia, uno viene trasferito dal padre, uno viene trasferito dalla madre. Quindi anche per quanto riguarda l'MDR1, il gene dell'MDR1 abbiamo due geni. Quindi nel caso in cui un cane non avesse nessun tipo di mutazione abbiamo il classico negativo-negativo. Se invece la madre trasmette il gene mutato e il padre invece no, avremmo MDR1 negativo. Invece se padre e madre trasmettono entrambi il gene mutato avremmo MDR1 a livello genetico. Ora cercherò di farvi capire la pericolosità. La pericolosità ovviamente è maggiore, ce l'ha chi ha tutti e due i geni MDR1 mutati perché vuol dire che molte delle categorie dei farmaci per cui questa piglicoproteina libererebbe il farmaco dalle cellule non avviene. Mentre invece per chi ha solo un gene mutato vuol dire che noi medici veterinari possiamo utilizzare questi farmaci ma ovviamente con dei dosaggi più bassi proprio perché più lentamente verrà metabolizzato, eliminato questo farmaco dalle cellule. Per quanto riguarda i miei proprietari cos'è importante sapere? Importante sapere prima di tutto che tipo di esame effettuare per sapere se il proprio cane ha questo tipo di mutazione. Di solito si esegue un esame del sangue oppure semplicemente ci sono dei brush salivari e si valuta ovviamente la presenza o meno di questo gene e ovviamente si valuta poi se c'è la presenza di un solo gene o di entrambi i geni mutati. Poi è chiaro che per gli allevatori è molto importante perché cercare di non far accoppiare cani con il gene mutato vuol dire poi avere una prole sana, negativa e quindi non ovviamente trasmettere questo carattere genetico che ripeto può causare dei problemi. Il proprietario una volta effettuato questo esame terrà ovviamente nel libretto l'esito dell'esame che sarà di grandissimo aiuto soprattutto nei medici veterinari soprattutto se dobbiamo utilizzare determinati farmaci proprio perché sapere o meno se un cane ha questa mutazione ci permette ovviamente di utilizzare più o meno determinati farmaci e quindi evitare chiaramente spiacevoli sorprese nel caso in cui abbiamo di fronte un cane che presenta ovviamente magari un border colli che presenta entrambi i geni con l'MDR1 mutato e quindi con l'impossibilità di utilizzare determinati farmaci anche salvavita, anestetici che molto spesso utilizziamo. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.